Memoria del 25 aprile, festa della liberazione con appuntamento nella frazione di Arsego, ma anche ricordo della tradizione secolare della festa di San Marco a San Giorgio delle Pertiche. Mattinata di celebrazioni, quella di domenica nell'Alta Padovana, dove tutti i comuni ricordano uno dei momenti più importanti della storia d'Italia e delle nostre terre. Rigide le regole anticontagio ricordate in tutte le locandine, con invito esplicito ai cittadini e cittadelle Camposampiero a esporre la bandiera tricolore alle finestre.